Gela sconfitta e martoriato a Torre del Greco. Dopo un sabato confusionario con la squadra che è partita in busse ed ha assaltato l'allenamento di rifinitura, nella gara di ieri si è visto una formazione in balia dell'avversario con il solo Sowu in panchina tra i senior. Qualche timida sortita di Alma e Dieme, ma i corallini sono stati ad approfittare del momento peggiore dei biancazzurri, frastornati da quanta caduta in settimana. Quattro giocatori sono già andati via, Burato, Bonanno, Montalbano e Misale. Altri potrebbero aggiungersi in settimana se non si sbloccherà la questione societaria e la vicenda a stadio. Un momento buio per il Gela e il calcio gelese che rischia una crisi irreversibile. La sconfitta a Torre del Greco è frutto di due settimane dove il calcio è sembrato l'ultimo dei pensieri. I giocatori e lo staff tecnico non sono tranquilli ed accorre fare qualcosa per non mandare tutto in malora. Il 5-1 di ieri non fa testo, era quasi prevedibile e il futuro a preoccupare, quello sì che fa paura. Più dei cinque gol dei corallini che si confermano l'antibari. Come dichiara a fine gara il tecnico Karel Zeman. Mr. Zeman, 5-1 un punteggio pesante ma bisogna dire che i suoi hanno lottato fino al 95esimo. Questo forse no, però il primo tempo secondo me abbiamo giocato meglio noi eppure siamo andati in svantaggio con una carambola. Un gol un po' strano. Poi dopo cinque minuti del secondo tempo in un minuto abbiamo preso due gol e da lì non si è capito più nulla perché eravamo troppo lunghi e c'erano troppi spazi per gli avversari. Comunque secondo me vedendo il primo tempo potevamo anche vincerla. Il risultato dice tutt'altro. Evidentemente c'era un bel po' di qualità, di differenza tra le due squadre. La prossima sarà un impegno importante per voi? No, tutti gli impegni sono importanti. Purtroppo noi ci arriviamo male ultimamente perché essendoci una società dimissionaria e tanti calciatori vogliono andare via. Molti sono già andati via, alcuni altri sono presenti col corpo ma non con la mente. Lei sa che in queste condizioni non si può andare molto avanti.